In questo esercizio vediamo come costruire un poligono regolare, cioè un pentagono, inscritto e circoscritto ad una circonferenza. Vediamo i classici modi di centro, cioè dato il centro e il raggio, sia per quanto riguarda il pentagono inscritto che quello circoscritto, e utilizzando il snap ad oggetto centro per avere il centro della circonferenza e il quadrante, cioè qua, quadrante, bastano le prime tre lettere digitate, se vengono digitate da tastiera, per inserire il centro e il raggio del pentagono. Nel secondo caso invece di un pentagono dato lo spigolo e spigolo, cioè quindi dati gli estremi del lato, dobbiamo ricorrere alla costruzione tradizionale fatta con compasso. E vediamo allora anche in questo caso come fare una costruzione tradizionale con il CAD. Andiamo nella parte di esercizio e vediamo come costruire il primo pentagono, quindi andiamo nel layer esercizio, poligono, pentagono di cinque lati, basta dare invio perché era già predefinito, il centro sarà il centro di questa circonferenza, notare che io ho già gli snap ad oggetto attivi, attivi, quindi devo stare attento a selezionare esattamente il filtro centro, oppure contro il destro mouse scelgo direttamente il centro e sono sicuro che sarà il centro quello selezionato, quindi il punto definito. I è un pentagono iscritto, quindi digito I oppure già predefinito do invio, quindi è inscritto e il raggio sarà al quadrante, quindi contro il destro mouse quadrante della circonferenza. Visto che sono in modalità inserimento centro e raggio, ripeto il poligono sempre di cinque lati, il centro sarà appunto il centro della circonferenza e sempre in scritto quindi do invio e il raggio sarà sul quadrante, quindi quadrante sinistro della circonferenza. Vediamo invece la costruzione del pentagono dato lo spigolo, quindi dato i due estremi del lato. Devo fare la costruzione, quindi vado in layer costruzione, inserisco quindi una circonferenza, o meglio per appoggiarmi comincio a costruire i due assi, quindi le due linee che vanno dal quadrante in alto al quadrante in basso, annullo perché ho sbagliato, come si può vedere il quadrante deve essere sempre ripetuto, a meno che non sia attivato nei filtri di snap ad oggetto. Ripeto quadrante anche per la seconda linea, ho dato invio, ripetuto linea, quadrante e quadrante. Come si può vedere devo scegliere quadrante ogni volta, c'è quindi il filtro di snap ad oggetto. Inserisco adesso una circonferenza, ho un arco, da questo punto passante per il centro, e inserisco una linea dall'intersezione all'altra intersezione trovata. Inserisco sempre una circonferenza, potrei inserire o dovrei inserire un arco, circonferenza è molto più rapido, non devo definire qual è l'inizio dell'arco, perché è molto più rapido anche la cancellazione delle circonferenze. Quindi il centro della circonferenza è questo, e il raggio sarà all'intersezione. In questo modo ho trovato, ripeto, do in via il cerchio, allora il mio cerchio, l'intersezione sulla prima circonferenza, cioè circonferenza data, sarà l'intersezione di questa circonferenza di costruzione con quella data. Queste intersezioni, queste due intersezioni saranno gli estremi del lato del pentagono. Prima di proseguire, cancello le linee di costruzione, cioè le mie circonferenze, seleziono il primo cerchio, do in via, e cancello le circonferenze di costruzione. Quindi, come si può vedere, rimangono solo gli archi. Inserisco adesso, dopo aver attivato il layer esercizio, il pentagono, cinque lati, spigolo, quindi devo selezionare S, il mio spigolo sarà questo estremo e questa intersezione, a questo estremo dell'arco. Come si può vedere, ho costruito un pentagono col sistema tradizionale. vediamo adesso il pentagono circoscritto, quindi cinque lati in via, centro, devo dare il centro, quindi seleziono il centro della mia circonferenza e a questo punto devo dare che è circoscritto, quindi devo selezionare quindi devo selezionare C per C con scritto e il raggio del cerchio in scritto sarà al quadrante in basso della circonferenza. Ecco, come si è visto, ho inserito un pentagono in maniera diciamo tipica e sfruttando le funzioni del CAD e anche utilizzando un sistema di costruzione tradizionale.